La recensione Il suo avventoso ingrassamento può essere spiegato solo con il fatto che mangia tutto il cibo rimandato in cucina Ma chi frega? A me avrei potuto fare meglio, cucinare la merda che volevo cucinare Ehi, 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 ma che fai? Sentite, ma non lo mando finché non va bene a tutti Perché non ti ripresenti stasera? Ho un nuovo menù solo per te, i coglioni No, 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 non è una buona idea di farlo Ecco, adesso è partito No, senti, perché l'hai mandata? È tardi ormai Papà, hai postato qualcosa da ieri sera? Sapete quante persone l'hanno letto? Fai tendenza, capo Non sarai mai appagato cucinando per qualcun altro Il food truck è una grande idea È una tela vuota per i tuoi sogni Te lo faccio portare qui Ti ringrazio Non prima di averlo visto Che cosa vuoi fare? Ti farà ridere Tony, Carl ha preso un forgone per i tacos Ero invidioso, sentendoti ho pensato che era quello che volevo fare Io entro nella vita della gente col mio mestiere E l'adoro E voglio dividerlo con te Mai provato una salsiccia anduja? No È piccante, ti piace il piccante? No Non è tanto piccante, andiamo Gente del Zona Una vez más